Chiediare, chiediare, chiediare! Oggi è stato il giorno di Matteo Ardemagna Chieti. L'esperto attaccante Lombardo si è presentato ai suoi nuovi tifosi in un caldo pomeriggio di luglio, ovviamente indossando la sciarpa a tinte nero-verdi. Visibilmente emozionato, ha subito messo le cose in chiaro, facendo aumentare i sogni estivi di una Chieti calcistica, vogliosa di gioire al più presto. Voglio giocare un po' col tuo cognome, da quando è uscita la notizia Chieti Arde? Arde, arde. Sono contentissimo, felicissimo di essere qua. Per me è uno stimolo e sono ambizioso come la società. Ringrazio il direttore, il mio procuratore Federico, il presidente, perché è una società ambiziosa e vuole vincere il campionato. Lo voglio vincere anch'io, quindi sono qua a posto. Una società che ingaggia Arde Magni mette già le cose in chiaro dai mesi estivi. Ci saremo anche noi per la vittoria finale? Me lo auguro, me lo auguro, perché sennò non sarei qua. Quindi me lo auguro, credo che ci saranno anche altri acquisti. Ho letto qualcosa su internet, quindi la mia voglia è di risalire subito nel calcio che conta e far felice veramente una piazza importante che ha fame di calcio.